552 nuovi casi di covid su 8.294 test, tra antigenici e molecolari, per un tasso di positività complessivo del 6,6%, il più piccolo tra i contagiati a un mese, il più anziano 98 anni. Ancora in salita il numero delle ospedalizzazioni. Dei 13.079 attualmente positivi in Abruzzo, 736 pazienti sono ricoverati, 651, 13 in più rispetto a ieri in area medica e 85 in terapia intensiva, 3 in più rispetto a ieri, dove il tasso d'occupazione ha sforato ormai da giorni il 40%. L'indice RT è in discesa, ha detto quest'oggi il presidente Marsilio, a margine della cerimonia di inaugurazione di un nuovo macchinario per TAC al Covid Hospital di Pescara. Non escludo che domani potremmo avere la notizia che il nostro RT sia anche sceso di leggermente sotto l'uno, quindi i progressi si cominciano a maturare e a contare, anche se purtroppo mentre scende l'R con T non abbiamo invece un calo sensibile di contagi che continuano ad avere in alcune zone, in alcune giornate, dei picchi ancora preoccupanti, quindi c'è come dire una sorta di ritardo nell'associare al calo dell'R con T un calo di contagi e di ricoveri. Si registrano 27 ulteriori morti, tra 54 e 97 anni, di cui 14 sono decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. 486 guariti, le province con il maggior numero di contagi sono il Pescarese e il Chietino, ma si registra un aumento di casi, 122, nell'Aquilano. Domani la cabina è di regia ministeriale per la settimanale ricolorazione delle regioni. Potremo anche tornare in zona gialla, dichiarato Marsilio, ma rimangono le zone rosse imposte dall'ordinanza regionale. Complessivamente rimane in arancione e se anzi venisse classificata come sotto 1 potrebbe anche iniziare il percorso di rientro in zona gialla per il territorio che non è interessato dalle restrizioni particolari dovute alla intensità del contagio. Su quei comuni continueremo, come abbiamo fatto e come stiamo facendo ormai quasi quotidianamente, a fare il dovuto monitoraggio, a verificare comune per comune chi merita di mantenere le restrizioni e chi invece può uscirne.